Durante la prima guerra mondiale la scuola militare, oggi Accademia Militare di Modena, si meritò la fama di fabbrica degli ufficiali perché in ben 12 corsi accelerati dal 15 al 18, il 13esimo in effetti non raggiunse il fronte perché terminò la guerra, gli 12 corsi accelerati sfornarono, prepararono alle armi ben 26.741 ufficiali che raggiunsero il fronte e molti di essi cadero con i loro soldati. Gli ex allievi dell'Accademia Militare meritarono ben 134 medaglie d'oro al valore militare durante la prima guerra mondiale. Una di queste medaglie d'oro fu il Maggiore Francesco Baracca, ex allievo dell'Accademia nel 1907-1909 che qui vediamo sul suo aereo.